Musica Metroman è arrivato anche all'Aquila, al secolo è Nicola Ammodica, cantante romano conosciuto per le sue performance in metropolitana, seguitissimo sui social, che a sorpresa è arrivato in città, nel capoluogo, con le sue casse e il suo microfono e la felpa con la M cucita sopra, come un vero supereroe. A portare allegria, ma anche a far vedere la città a 13 anni dal terremoto. I video artigianali degli Aquilani sono subito rimbalzati sui social e anche Antonello Benditti, amico della città, ha ricondiviso l'esibizione di Metroman, che davanti alle chiese degli Anime Sante ha intonato la famosissima canzone dell'artista romano Ricordati di me, un'occasione con cui Benditti, il recente ospite della perdonanza, ha salutato l'Aquila e gli Aquilani. E' un'occasione con cui Benditti, amico della città, ha ricordato l'Aquila e gli Aquilani. E a con cui Benditti, amico della città, ha ricordato l'Aquila e gli Accusi di me, un'occasione di Metroman, che ha ricordato l'Aquila e gli Aquilani. Metro Man è seguitissimo sui social, un fenomeno del web porta la sua allegria sui trasporti pubblici ad aglietare le giornate dei pendolari che ogni giorno viaggiano tra problemi, imprecazioni e fretta, gira per le città con la sua voce e la sua musica improvvisata. La sua allegria contagiosa è arrivata all'aquila tra la gente seduta nei tavolini dei bar che ha intonato con lui le canzoni e che lo ha seguito nella sua performance che ha fatto vedere i vicoli e piazze di un'aquila che si sta rialzando. I commenti e le condivisioni sono state tantissime e al di là di tutto è stata l'occasione per mostrare e far conoscere la città nella sua ripresa perché tante persone hanno ricondiviso le immagini e i video, una ventata di allegria inaspettata e bella per l'aquila. I commenti e poi Grazie.